Nulla è possibile se ti diri del Signor Nulla è possibile se tu credi a Lui porco Io ti chiede c'è qualcosa che sia un po' difficile per me Sulla parola forzati, confida nel Signor Nulla è possibile se tutto è possibile se ti diri Nulla è possibile Se il mio popolo, il suo padre è bloccato il mio nome Si miglia, mi rega, si entra la mia fascia E torna il mio popolo Dalle sue mie malvagie Dalle sue mie malvagie Io ascolterò Dalle sue mie malvagie Perfetto dirò il suo peccato E guarirò il suo paese Io lo farò Se il mio popolo, il suo padre è bloccato il mio nome Dalle sue mie malvagie 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 Grazie a tutti. La versione che si usava tanti anni fa, quella del Dio Dati con un linguaggio più antico, rendeva così. Io avrò l'occhio sugli uomini leali della terra, a ciò che dimori nomeco, chi cammina per la via intiera mi servirà. Possiamo sedere. Il re Davide dichiara come regolare la sua casa e come governare il regno di cui è il re. Per fermare la malvagità, per incoraggiare la pietà, la vita di credente vissuta nel giusto modo. Ma il Salmo, e queste parole lette in particolare, applicabile ovviamente anche alle famiglie private. Ed è chiamato il Salmo del padrone di casa. Davide, il re, dichiarava che avrebbe guardato agli uomini fedeli per impiegarli nella sua casa o al suo servizio. Uomini fedeli vuol dire coloro che sono degni di fede o fiducia. La parola di Dio dice degli uomini che devono servire il Signore con incarichi che siano trovati fedeli. E dovete sapere che tanti anni fa ci fu un Pio Duca, quello di Sassonia Gota, e in un libro scritto su di lui si riferiva di avere inviato a un ministro infedele una copia del Salmo 101. Proprio questo che stiamo considerando è che divenne un proverbio nel paese. Quando un funzionario faceva qualcosa di sbagliato, subito riceveva una copia di questo Salmo. E ormai quando arrivava la copia del Salmo si sapeva che il Pio Re gli scriveva perché si ritrovava ad essere una persona disonesta. Avrò gli occhi sui fedeli del Paese per tenerli vicino a me. Ci parla dei fedeli, dei leali, che saranno sempre voluti, ricercati, usati, adoperati. I fedeli saranno sempre voluti da Dio, intanto, per la loro integrità. Avrò gli occhi sui fedeli del Paese per tenerli vicini a me. Per tenerli vicini a me. Gli uomini di integrità, retti davanti a Dio e davanti agli uomini, sono persone sempre cercate. E desidero dire che a volte a mettere in dubbio con le parole o con le attitudini tutto questo potrebbe capitare che sia anche la persona più vicina a noi. Per esempio il coniuge, il marito, la moglie, la moglie di Giobbe gli disse ancora stai saldo nella tua integrità, ancora stai saldo nella tua integrità. Le parole furono dette perché Giobbe stava passando continuamente dei problemi e delle difficoltà. Uno finiva e un altro iniziava. Lui stesso dirà, non appena temo un male, quello mi piomba, mi cade addosso. E questa donna riconosce la sua integrità, ma lo schernisce. È triste se in famiglia c'è un'atmosfera del genere. Ma ci furono famiglie dove questa integrità li scampò. Per esempio la famiglia di Noè è detto di lui che fu un uomo giusto, integro ai suoi tempi. Ne ho di questo uomo e che, dirà qualcuno, predica sempre le cose di Dio. Sono cent'anni, a quel tempo si viveva a lungo, che sta sempre là a predicare la giustizia, sta sempre là a chiedere il ravvedimento. È una brava persona, è un uomo integro, è un uomo per bene, però parla sempre di una cosa. Ahimè. Poi ciò che lui aveva previsto accadde. E il diluvio venne e si salvò solo l'uomo integro Noè, insieme alla sua famiglia. C'è un altro uomo integro a cui Dio raccomandò di essere integro e questa raccomandazione la vogliamo raccogliere per noi. Come Dio disse ad Abramo, può dire a noi, quando lui aveva 99 anni, il Signore gli apparve e gli disse Io sono il Dio onnipotente, cammina nella mia presenza e si integro, si retto quindi, si giusto, si un uomo fedele. È questo tipo di persone che saranno sempre voluti, ricercati da Dio, ma tranquilli anche dagli uomini. Nessuno di noi darebbe il proprio portafoglio, e non parlo solo di quello di pelle, ma parlo del portafoglio di azioni per chi ce l'ha, parlo del portafoglio finanziario, di buoni del tesoro, peggio ancora, di un libretto al portatore, chi glielo darebbe in mano a un ladrone, ma a un uomo fedele si può affidare ciò che è giusto affidargli. Tu sarai integro, disse il Signore nella legge di Mosè, verso il Signore tuo Dio. Quindi i cristiani non sono degli imbroglioni, non sono dei farfalloni, non sono dei chiacchieroni con una duplice vita e con una doppia identità e non è affatto vero che una cosa è la Chiesa, termine che alcuni usano per indicare la fede in Dio, e un'altra cosa è il lavoro. Non è vero niente, noi siamo sempre cristiani, dobbiamo sempre manifestare la nostra fede di cristiani. I fedeli saranno sempre voluti, ricercati, perché sono affidabili. Abbiamo alcuni casi famosi nella Bibbia, Giuseppe. Il Signore fu con lui, venduto dai suoi fratelli, Dio invece lo benedisse dove si trovava. Gli mostrò il suo favore e gli fece trovare grazie agli occhi del governatore. Sapete di che cosa? Della prigione. Qualcuno dirà, ma il Signore per benedirlo lo doveva benedire proprio in prigione. Tutto aveva un piano. Altri prigionieri, a un certo momento, confidarono a Giuseppe i loro sogni. E Giuseppe li interpretò. E siccome li interpretò, accadde che, proprio come l'interpretazione aveva predetto, uno dei due uscì, l'altro morì prigioniero. E quello che uscì aveva avuto la raccomandazione da Giuseppe, ricordati di me, prova a fare qualcosa per me, ma lui se ne dimenticò. E non ci meraviglia mica tanto, gli uomini facilmente si dimenticano di ricambiare il bene, ma non si dimentica il Signore. E quando il faraone fece un sogno che nessuno riusciva ad interpretare, quell'uomo disse «Mi ricordo dei miei peccati, avevo promesso di interessarmi e non l'ho fatto rire». Faraone, io feci un sogno e quell'uomo in carcere me lo interpretò ed effettivamente tu mi liberasti, mandatolo a chiamare. Interessante è che quando l'hanno mandato a chiamare da persona pulita, perché i cristiani sono persone pulite e decorose, si cambiò il vestito, si sistemò il volto, la testa e poi andò dal faraone. Perché dici questo pastore? Per ricordare a tutti che i cristiani sono persone affidabili e quindi se sono ricercate per la loro affidabilità devono anche essere persone ordinate, pulite e di esempio anche nella propria attitudine vita vissuta. E io desidero dirvi che il faraone, dopo aver ascoltato l'interpretazione e persino una parola di sapienza con un rimedio di che fare, disse a Giuseppe «poiché Dio t'ha fatto conoscere tutto questo, non c'è nessuno che sia intelligente e savio quanto te. Prendi tu a organizzare questa cosa». Un altro uomo affidabile, sempre cercato, durante tutta la vita addirittura. Passavano i re, ma lui stava sempre là. Dapprima il re Nabokodonosor, poi il re Baldassar, poi il re Dario e lui stava sempre là. Perché un uomo che è un uomo integro, un uomo fedele, un uomo leale, viene sempre ricercato. Anche se sembra che gli altri abbiano la scorciatoia che riescono ad arrivare, ricordiamolo, arrivano prima e cadono prima, ma chi è da Dio resterà dritto in piedi. Gloria al Signore. E fu così che i capi e i satrapi cercarono di trovare un'occasione per accusare Daniele, circa l'amministrazione del regno, ma non poterono trovare alcuna occasione, perché era fedele. E non c'era alcunché per rimproverarlo. Se siamo uomini fedeli, saremo ritenuti affidabili e gli altri ci cercheranno, ci vorranno sempre. Un giorno un re chiamato Ezechia disse, Signore, ricordati ti prego che io ho camminato davanti a te con fedeltà e con cuore integro. Ho fatto ciò che è bene agli occhi tuoi e scoppiò in un grande pianto. Il profeta gli aveva portato la notizia che stava per morire e Dio voleva che lui si preparasse. Non sempre riusciamo a comprendere questi avvertimenti. Lui pianse davanti a Dio, il profeta ritornò indietro, era già andato via, e gli disse, Signore, ti prolunga i tuoi anni. Purtroppo quegli anni non furono i migliori. Tutto ciò che aveva fatto di buono lo macchiò con questo ultimo periodo della vita. Il Signore sa quando ci deve portare via e noi non dovremmo eccessivamente stare a preoccuparci della data, ma solo del modo di vivere, ovvero sia essere fedeli, essere leali. Perché i fedeli e i leali saranno sempre voluti. Non solo, ma saranno sempre ricompensati. Ricompensati per il loro servizio. Perché, abbiamo letto, avrò gli occhi sui fedeli del Paese. I fedeli. Solo i fedeli saranno ricompensati. Mosè, per esempio, è testimoniato di lui che fu fedele in tutta la casa di Dio come servitore per rendere testimonianza di ciò che doveva essere annunziato. Notiamo insieme. Fu fedele in tutta la casa di Dio. Era un uomo mansueto più di chiunque altro. Ma una volta la pazienza gliela fecero perdere anche al più mansueto che c'era. E si addirò. Dio gli disse di percuotere la roccia, visto che si lamentava dell'acqua che non c'era. E diceva, e che ve la devo dare io, giustamente. Però Dio gli disse, percuoti la roccia e l'acqua uscirà. E lui ha tirato come era. La percosse non una ma due volte. E lo fece con rabbia. Gli costoccaro. Non entrò nella terra promessa. Perché Dio fu così severo? In fin dei conti, se invece di battere una, battè due volte, qual era il problema? In teologia, in dottrina, si dice, era un problema tipologico. Ovvero, Gesù è stato percosso e ucciso solo una volta. E quella roccia, è scritto in primo corinzi 10, era figura di Cristo. Non poteva batterla due volte. Perché Cristo è morto una volta e per sempre. Siamo così contenti oggi di sapere che Gesù è la roccia da cui viene l'acqua. Che per la sua morte e resurrezione, noi siamo ancora oggi dissetati. Chi sono questi fedeli di cui questo verso parla? Avrò gli occhi sui fedeli del paese. Sono persone credenti che non badano all'apparenza. Non fanno come Saul, che ha peccato. Vedendo che il popolo cominciava ad andare via perché Samuele tardava ad arrivare per offrire il sacrificio. Disse, ma come combatto la guerra se se ne vanno? Fece una cosa che non avrebbe mai dovuto fare. Offrì lui il sacrificio. E lui non era sacerdote, non era della famiglia d'Aaronne e solo loro erano incaricati di fare questo. Era una profanazione, profanazione anche qui tipologica, anche qui dottrinale. Perché? Perché solo uno avrebbe poi potuto racchiudere i tre ministeri di profeta, sacerdote e re. Perché? Nessun altro poteva farlo e solo uno l'ha fatto. Il suo nome è Gesù. E il suo nome è un profumo che si spande oggi. In mezzo a noi, suo popolo. Ci piace ricordare che purtroppo lui disse a Samuele, ma tu adesso onora, mi ti prego, in presenza degli anziani del mio popolo, ritorna con me e mi prostrerò davanti al Signore. Invece di stare lì a piangere, a ravvedersi, a pentirsi, a invocare perdono, si preoccupa solo di essere onorato davanti agli uomini. I fedeli non devono badare all'apparenza. I fedeli si relazionano con rettitudine con Dio e quindi con gli uomini, mai per meriti personali. Nella legge di Mosè era scritto tu entri in possesso del paese per la tua giustizia o rettitudine. Oh no! Il Signore, popolo mio, sta per scacciare quelle nazioni per la loro malvagità e per mantenere la parola giurata ai tuoi padri. ad Abramo, Isacco, Giacobbe. Dovremmo apprendere dalla fedeltà di Dio e essere così uomini fedeli. Hai promesso di servire il Signore? Lo devi fare fino alla fine. Hai promesso di essere un uomo retto? Devi mantenere la tua rettitudine e costi quello che costi. Qualcuno che fu nominato in modo speciale per la sua rettitudine. Il re Asa, che fece ciò che è buono e retto agli occhi del Signore, suo Dio. Il re Asa fu uno dei quattro re che sperimentarono un risveglio religioso, spirituale, nel popolo di Dio, nel popolo di Giuda. Un altro fu Ezechia, fece ciò che è buono e retto e vero davanti al Signore, suo Dio. E desidero dire che i fedeli saranno sempre ricompensati perché sono uomini leali. Chi sono gli uomini leali? La parola indica i sinceri. I leali sono i franchi, i corretti. I leali sono i dritti moralmente. I leali sono quelli attaccati al dovere e al rispetto della propria dignità. I leali sono quelli che mantengono gli impegni. Vi ricordate il primo, grande e più importante impegno che abbiamo preso? Alle mie spalle, questa porta periodicamente viene tenuta aperta. C'è una vasca battesimale. Molti sono scesi qui nelle acque battesimali e hanno detto a Dio io accetto Gesù Cristo, credo in Lui, rinuncio alla vecchia vita, prometto di servire Te, Signore, per sempre. È un impegno. E essere leali, essere retti, vuol dire mantenere la parola, non venire meno, custodisci il buon deposito, resta vicino al Signore. La Bibbia dice esorta i servi a essere sottomessi ai loro padroni e a mostrare sempre lealtà perfetta. A quel tempo era un impegno grosso perché questi servi erano schiavi e questi padroni erano padroni con diritti fortemente vicini alla prepotenza vista la schiavitù. Eppure il Signore raccomandava ai dipendenti sempre lealtà perfetta. Molti di voi sanno di quel giovanotto che lavorava al banco gelati e un cliente suo amico gli disse mettine un po' di più che il padrone non sta guardando e gli fece l'occhiolino. Il dipendente amico suo rispose il mio padrone mi vede sempre e io desidero dirvi che l'occhio del Signore è su di noi anche quando a noi non farebbe tanto piacere essere visti Lui ci vede. È necessario perciò essere leali. Tu, Signore, ti mostri leale scritto verso chi è leale integro verso l'uomo integro così se saremo leali e integri Dio lo sarà con noi. I fedeli sono credenti che saranno ricompensati perché scrupolosi onesti coscienziosi abbiamo letto avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicino a me chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore una via irreprensibile si tratta di una via irreprensibile verso i deboli è scritto accogliete colui che è debole nella fede ma non per sentenziare sui suoi scrupoli spiego di che si trattava Paolo l'Apostolo parlava di credenti che in parte pensavano che certe cose si mangiano non si mangiano e in parte pensavano che era tutto perfettamente inutile questo scrupolo beh Paolo raccomandava di non sentenziare sugli scrupoli altrui non è giusto che alcuni deridano quelli che conservano i vecchi principi di fede che hanno avuto ai primordi agli inizi della fede non è neanche giusto che chi è avanti negli anni di fede prenda in giro e ironizzi riguardo a chi fa esattamente il contrario di se stesso si tratta di una via irreprensibile verso i deboli dobbiamo andare incontro ma anche verso l'altro in generale lo spirito disse l'Apostolo Pietro mi disse di andare con loro gli emissari di un centurione romano si chiamava Cornelio senza farmene scrupolo noi non dobbiamo avere scrupoli religiosi nell'ottemperare ai comandi del Signore chi siamo noi da potergli dire eh Signore ma quello ma quella non si convertirà mai proprio quello e proprio quella magari si convertirà e molti tra virgolette religiosi per bene non si convertiranno mai avranno una religione ma il loro cuore non sarà trasformato di che parli parlo di secondo Corinzi 5.17 se dunque uno è in Cristo egli è una nuova creatura le cose vecchie sono passate ed ecco tutto è diventato nuovo grazie Signore per una via irreprensibile chi la percorre sarà mio servitore è una promessa che Dio fa ai fedeli ai leali che saranno benedetti avrò gli occhi sui fedeli del paese vuol dire che Davide li avrebbe cercati ma vuol dire anche che Dio avrebbe ricercato il suo occhio di favore li rallegrerà è scritto infatti in lui certo si rallegrerà il nostro cuore perché abbiamo confidato nel suo santo nome mi piace considerare con voi che i fedeli saranno benedetti in particolare della vicinanza con Dio perché abbiamo letto nel verso 6 per tenerli vicini a me e la vecchia versione di Odati che abbiamo anche letto dice a ciò che dimori in omeco cioè stiano a casa mia nella mia dimora capite dovremmo fare in modo di farcela con persone fedeli con persone leali con persone che non ci allontanano da Dio ma anzi che ci avvicinino e se ti ritrovi in una situazione di persone con persone che ti fanno del male spiritualmente evitali frequenta chi ti aiuta a crescere nella via e nella via di Dio per tenerli vicini a me Dio ci ricompenserà con la comunione con Lui perché fedele è Dio che vi ha chiamati alla comunione con il figlio suo Gesù Cristo Signore nostro grazie Padre per la tua benedetta parola i fedeli saranno benedetti nell'essere servi del Signore perché abbiamo letto avrò gli occhi sui fedeli del Paese per tenerli vicino a me chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore sarà mio servitore che grande privilegio servire il Signore quando ti trovi a fare certe scelte sembrano difficili agli altri ma chi sente il suo cuore palpitare d'amore per Gesù chi avverte una chiamata divina in una certa direzione non ci penserà troppo sarà mio servitore è capitato a sottoscritto anche come a tantissimi altri a un certo momento della vita avere una chiamata a essere servitore del Signore tenevo nel mio cuore il desiderio di servire Dio e pregavo il Signore di poterlo fare Dio aprì la porta per poter frequentare l'istituto biblico e mentre ero là in una riunione di preghiera nella Chiesa di Roma dove vicino c'era l'istituto biblico pregavo chiedendo al Signore fammi capire in che modo devo servirti che cosa devo fare e mentre facevo tutto questo il pastore della Chiesa venne come leggendo nel mio cuore nella mia mente lui disse Signore tu sai che ti sta chiedendo come servirti fagli capire che tu lo stai chiamando a un ministero a tempo pieno rimasi esterefatto dissi è solo Dio che gliel'ha potuto dire è quello che stavo pensando esattamente qualche momento fa e da quel momento e nonostante l'ambiente in generale l'ambiente che mi circondava che frequentavo l'ambiente della famiglia posso capirlo non fui incoraggiato a farlo per la verità puoi servire Dio senza bisogno di essere a tempo pieno essere a tempo pieno vuol dire essere a disposizione dell'opera di Dio che significa poter andare lontano e infatti andò così 33 anni lontano da Napoli poi 12 anni fa la volontà di Dio ha voluto che ci tornassi mamma mi chiamò era viva ancora e mi disse se lo fai per me non lo fare io me ne sto andando dissi no mamma non lo farei per te lo sto facendo perché il Signore mi sta confermando che devo accettare la richiesta della Chiesa di Napoli di essere il loro pastore Dio fu buono e mi ha lasciato mamma cinque anni per poterla godere visto i tanti anni che l'avevo vista solo sì e no due o tre volte l'anno Dio è stato buono con questo com'è che è potuto accadere perché c'è una precisa promessa Dio dice chi cammina per una via irreprensibile sarà mio servitore ovviamente non tutti abbiamo la stessa chiamata non tutti siamo chiamati a fare questo o quest'altro ma se tu sei di servizio all'ingresso sei un servitore del Signore se tu sei uno di quelli che si preoccupa di pulire il luogo di culto sei un servitore del Signore se ti dai da fare nel lavoro per il quartiere sei un servitore del Signore se tu insegni nella scuola domenicale sei un servitore del Signore se tu assisti i bambini durante i culti per far fare il culto in pace ai genitori sei una servente un servitore del Signore è così bello servire il Signore siete d'accordo? è scritto come non si può contare l'esercito del cielo né misurare la sabbia del mare così io moltiplicherò la discendenza di Davide mio servitore e i Leviti che fanno il servizio in mio onore mio servitore Davide era il re la Bibbia lo indica come un poeta la scrittura lo descrive come musicista è definito il dolce cantore di Israele altrove è indicato come un uomo che ha profetizzato delle cose di Dio è lui l'autore del Salmo più famoso del mondo e tra le opere letterarie più famose del mondo il Salmo 23 il Signore è il mio pastore nulla mi manca nel mondo cristiano questo Salmo viene usato quando si seppelliscono i cristiani quando ci sono delle occasioni speciali quando i cristiani si trovano davanti a dei pericoli e devono andare avanti senza tentennare senza dubbi senza paure e ripetono a se stessi a volta d'alta voce anche a tutti gli altri il Signore è il mio pastore nulla mi manca nulla mi mancherà ebbene uno con tutti questi possibili titoli questo è il secolo dei titoli ognuno mette nei curriculum vite tutti i titoli di studio che ha tutti i lavori che ha fatto chi più ne ha più ne mette beh invece di Davide Geremia da parte del Signore che cosa dice che era? il mio servitore Davide è un grande onore essere servitori del Signore tutto ciò che fai cari musicisti vi fa servitori e serventi del Signore voi che cantate siete al servizio del Signore tutti voi che fate qualche cosa voi dite ma una minima cosa è sempre il servizio del Signore e oggi concludendo vogliamo dirvi che la potenza di Dio è su di noi sapete come è detto di Gesù ecco il mio servitore che ho scelto il mio diletto in cui l'anima mia si è compiaciuta io metterò lo spirito mio sopra di Lui ed Egli annuncerà la giustizia alle genti non contenderà non griderà e nessuno utrà la sua voce sulle piazze e nel nome di Lui le genti spereranno siamo così abituati a sentire grandi oratori che urlano le loro convinzioni siamo così abituati a sentire persone che nell'esercizio del loro servizio si arrabbiano al punto da spaccare tutto e distruggere anche i fiori del palcoscenico persone un po' così beh io voglio dirvi che invece Gesù è scritto che non avrebbe gridato di Lui è scritto che non avrebbe conteso di Lui è scritto che nessuno avrebbe udito la sua voce nelle piazze non lo ritroviamo in piazza centrale Gerusalemme piazza numero uno no lo ritroviamo nei luoghi deserti lo ritroviamo in riva al mare per pulpito una barchetta lo ritroviamo vicino ai poderi ai campi e lì raccontare la parabola del seminatore lo ritroviamo sopra una barca in mezzo a una tempesta che predica e dice sono io non temete uno così come l'avremmo indicato oh io penso di saperlo dottor pastor apostolo profeta evangelista Gesù Cristo e invece no viene indicato così ecco il mio servitore che ho scelto non c'è un onore più grande che essere i servi del Signore puoi cominciare da bambino e puoi terminare da grande per essere servitore del Signore Dio volendo e piacendo prossimamente un bambino sarà con me alla radio per il programma vuole stare con me in uno dei programmi buon segno si comincia così e poi Dio sa quel che vorrà farci fare ma qualsiasi sia quella cosa che bisognerà fare la conclusione sarà essere servitori del Signore avrò gli occhi sui fedeli del paese per tenerli vicini a me saranno voluti sempre saranno ricompensati come Dio è ricco in grazia a fare saranno benedetti di ogni benedizione perché scritto molta gente vanta la propria bontà ma un uomo fedele chi lo troverà i figli del giusto che cammina nella sua integrità saranno beati dopo di lui grazie signore per uomini fedeli per uomini leali che ti amano e ti servono tutti i giorni della loro vita che a lui colpo io ti chiede c'è qualcosa che sia un po' difficile per me sulla parola forza di continuare il Signor con Dio è possibile sì tutto è possibile per l'euro 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 Grazie a tutti